Benissimo. Amiche e amici di Volumbrite, siamo qui con il nuovo Disability Manager del Comune di Torino, in realtà è in azione già da qualche mese, ma oggi c'è stato l'insediamento nel nuovo ufficio, qui in via Palazzo di Città 9-11. Allora, Avvocato Lepore, com'è andato l'incontro e quali sono gli sviluppi futuri? L'incontro è andato molto bene, finalmente abbiamo inaugurato l'ufficio del Disability Manager, anche se io sto già lavorando in via informale da circa sei mesi, perché la mia nomina è del giugno 2019. È stato un bellissimo incontro, sono particolarmente onorato del fatto che hanno partecipato diversi assessori, oltre che la sindaca, la vice sindaca, l'assessore alla pietra, l'assessore giusta. Mi aspetto un lavoro sicuramente complicato, ma allo stesso tempo stimolante e affascinante. Il Disability Manager, partendo dalle esigenze delle persone con disabilità, ha il compito di favorire la loro autonomia in tutte le sfere della vita quotidiana. Quindi le funzioni e le competenze del Disability Manager spaziano dall'accessibilità degli edifici, degli spazi urbani, l'accessibilità ai trasporti, l'inclusione scolastica, all'inserimento lavorativo, l'accessibilità alla cultura, al turismo, la pratica dello sport da parte delle persone con disabilità. Sicuramente la vera inclusione può essere fatta solo attraverso un lavoro di rete e una condivisione di buone prassi, e quindi avrò un gruppo di lavoro che coordinerò attraverso colloqui periodici con i vari assessorati, perché la disabilità non è un discorso che riguarda un assessorato esclusivamente, è un discorso che riguarda tutta l'amministrazione comunale. Ovviamente non mancheranno i confronti con le associazioni di persone con disabilità che sul territorio di Torino svolgono un ruolo veramente prezioso, e sicuramente ci sarà grandissima attenzione alle persone con disabilità e ai familiari delle persone con disabilità. Il mio compito deve essere quello di promuovere l'esercizio dei diritti delle persone con disabilità in condizioni di parità con gli altri, perché le persone con disabilità, prima di essere disabilità, sono persone e cittadini. Quindi io ci metterò tutto il mio impegno, la mia competenza per cercare di costruire una Torino per tutti. Vogliamo dare alcuni orari dell'ufficio per chi volesse rivolgersi appunto a lei e ai suoi servizi? L'ufficio per il momento osserverà i seguenti orari d'apertura. Il martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30, il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16, c'è anche un numero telefonico dedicato che è lo 011-011-216-00, c'è anche una mail dedicata che è disabilitymanager.comune.torino.it. Abbiamo inaugurato oggi l'ufficio, quindi non so se gli orari saranno mantenuti, se del caso saranno sicuramente ampliati. Grazie mille e in bocca al lupo allora per questo percorso. Grazie mille a voi.